Roma prova a restare a contatto con le big del campionato nella trasferta di Genova contro il Genoa. Segna un ex rosso-blu, Stefanella Sciarawi su assist di Alessandro Florenzi. Ma poi la follia di Daniele De Rossi che si fa espellere genera un calcio di rigore trasformato per il primo gol in rosso-blu da Gianluca Lappadula dopo 19 partite. Torna a pareggiare la Roma in campionato.